Primo giorno di scuola anche per gli studenti aquilani. Prima campanella con ingresse e uscite scaionate, quel pizzico di emozione in più perché da oggi si è tornati in presenza al 100%. Anche il sindaco Pierluigi Biondi ha rivolto il suo saluto agli studenti. La riapertura, detto, rappresenta un segnale di speranza verso una vita di relazioni, sia pure con le distanze precauzionali che si accorceranno sempre di più grazie anche alla campagna vaccinale, sino a farci ritrovare la bellezza di abbracci, baci e carezze. Per l'ennesimo anno la maggior parte degli studenti ricomincia a studiare ancora dentro ai MOSP. A parte la Maria Leventre e la scuola di Arischia, le altre attendono ancora di essere ricostruite, sebbene per il comune questo sarà l'anno per far partire alcune situazioni e velocizzare tutte le pratiche. Tra le scuole superiori il Cotugno si appresta a vivere il quinto anno su diverse sedi, ma dovrebbe essere l'ultimo perché la provincia ha annunciato che per Natale si potrà tornare nella sede definitiva di Pettino. Il polo scolastico che ha più studenti è quello di Colle Sapone, con diversi istituti superiori che coabitano. Qui il comune ha preso dei provvedimenti per lasciare la zona off-limits alle automobili dei genitori, che potranno parcheggiare in zone attigue. Abbiamo accolto gli studenti delle classi prime, in particolare poco fa in questo piazzale, chiamandoli nome per nome, classe per classe, facendoli accompagnare dai professori, proprio perché prendano subito familiarità con l'organizzazione che è rodata ma un po' complessa per chi non la conosce, proprio perché siamo una scuola molto densa di popolazione scolastica, ormai andiamo verso i 1.200 studenti. Abbiamo predisposto come l'anno scorso otto ingressi, quindi ciascun nuovo studente ha potuto così percorrere l'ingresso a lui dedicato insieme al professore e al gruppo classe. Siamo in attesa anche di nuovi provvedimenti della provincia che hanno previsto per noi un nuovo prefabbricato da collocare sempre all'interno delle nostre pertinenze per alleggerire un po' il numero delle classi all'interno. Nessun problema, spiega la dirigente dell'ITIS per il controllo del Green Pass, grazie alla piattaforma del Ministero. La piattaforma che è stata aperta già nella giornata di ieri ci consente un controllo simultaneo su tutto il personale in servizio nell'istituto, quindi ci vengono immediatamente evidenziate in rosso le unità di personale che non sono in regola con il Green Pass. Per queste predisponiamo il doppio controllo poi agli ingressi con l'app dedicata. Per il resto qualche polemica politica per i servizi mensi e trasporti che partiranno più in là e non da oggi, mentre continua a tenere banco il discorso della scuola di Scoppito con alcune classi trasferite nei locali di un ex ristorante. Oggi alcuni genitori alunni non si sono presentati e stanno cercando con difficoltà di iscriversi ad altre scuole.